Mauro Bernardi, questa giornata dedicata allo scia, agli sport invernali e soprattutto agli impianti della provincia di Cuneo, che cosa rappresenta per la provincia di Cuneo? È un momento di ripartenza, un momento in cui volevamo comunicare l'urlo della montagna cuneese che è pronta e pronta ad accogliere tutti quelli che quest'anno vorranno veramente andare a scelare sulle nostre montagne. La neve è arrivata, il freddo è arrivato, siamo pronti per ripartire in quella che veramente vogliamo che sia la stagione invernale della ripartenza. La situazione non è ancora tranquilla, perché comunque il problema Covid oggi esiste ancora, ma oggi però esistono delle regole chiare che ci possono consentire di rivivere una stagione invernale che purtroppo l'anno scorso ci è stata tolta, ci è stato tolto all'ultimo minuto. Quindi dopo la beffa dell'anno scorso, le stazioni in piazza oggi, proprio comunicare queste, quindi tanta voglia di ripartire, tanta voglia di ritornare alla normalità il prima possibile. Grazie a voi.